Sono sicura che sarà un piacere anche per voi l'ex presidente di Lega Pro, Mario Macalli, buonasera Presidente. Buonasera a voi, grazie, me l'invito. Anche questa sera farò buon uso della sua presenza in studio proprio per approfittare della sua professionalità, dei suoi anni nel mondo del calcio, per chiedere naturalmente di mercato, di campo, ma non solo. Insomma Marco, partiamo proprio dalle giornate di Serie B che si sono state disegnate poco fa. Esatto, andiamo in grafica per vedere insieme almeno le prime giornate del campionato cadetto. Abbiamo seguito da Pescara e tra poco torneremo a Pescara con il nostro Luca Cilli pronto in zona mista a intervistare i protagonisti dell'evento che ha portato alla compilazione di queste giornate di campionato. La prima è davvero già molto interessante dal punto di vista dei valori tecnici ma anche ambientali, spettacolari, perché di fronte ci saranno Salernitana, Avellino, torna uno dei derby più caldi del Sud Italia, della Campania in particolar modo, ma questo è il primo turno con Bari Spezia, Cagliari Crotone, Cesena Brescia, Livorno Pescara, Modena Vicenza, Novara Latina, Perugia Como, Provercelli Lanciano, Salernitana, Avellino come detto, Trapani Ternana e le due ripescate Y e X che si troveranno subito di fronte. Vedremo anche scorrere le prossime giornate in grafica, ma il presidente Macalli è obbligatorio innanzitutto chiedere un commento su questa prima giornata, ma più del commento sulla prima giornata con lei per parlare di queste lettere Y e X che fanno parte del calendario di Serie B e della seconda giornata e faranno parte anche del calendario di Lega Pro, anzi lì ci sarà anche una W e una Z. Bisognerebbe chiedere a chi ha creato la lettera, le lettere, perché più che a me, queste sono situazioni che si sono verificate all'interno del mondo del calcio, sia della Serie B che della Lega Pro, la Lega Pro per ricaduta ne sta avendo due e per ricaduta anche la Serie B ha questa situazione, per cui bisogna aspettare l'esito finale dei processi, a giorni l'avremo, per cui più o meno le cose per oggi si conoscono, anche se credo che bisogna effettivamente aspettare perché non è detto che alcune situazioni rimangano come quelle che sono state valutate in primo grado, leggendo i giornali e sentendo le parti in causa alcuni insomma non sono molto d'accordo su questi, fra cui al di fuori di tutta questa situazione anch'io non sono molto d'accordo. Esatto, la sua opinione sulle sentenze del Catania, retrocessioni Lega Pro e il Teramo, retrocessioni in serie di attesi, lo ricordiamo giovedì. Mi pare che la richiesta formulata sul Catania non abbia avuto grande successo, visto che poi il Tribunale l'ha molto modificata, questo dà l'impressione che hanno avuto parecchie persone che non fosse una richiesta particolarmente in linea con quello che era avvenuto. Qual è la differenza tra la richiesta del procuratore federale e poi il primo grado di giudizio? Io non conosco le carte, evidentemente ci sono situazioni che non quadravano, però c'è una cosa invece che appare e balza agli occhi di tutti, c'è una situazione che riguarda una partita Teramo-Savona, io vi ho detto un po' di tempo fa che se vedessi con i miei occhi qualcosa che è imputabile al Presidente del Savone delle Piane non ci crederei, ancora oggi non ci credo. Può darsi che qualche suo collaboratore è impropriamente preso, perché è colpa sua questo, di avere preso della gente all'interno della società che era meglio lasciare molto lontano dalla società stessa, può darsi che abbiano combinato qualche cosa, però sta di fatto che qualcuno, se è vero quello che dicono, ha comprato una partita, altri l'hanno venduta. Se c'è un Presidente che dice che di partite ne ha comprate 5, vorrà dire che 5 squadre si sono vendute, però non mi risulta che queste 5 squadre siano state messe sotto processo come il Savone. Ne tanto meno alcuni giocatori. Io non sono assolutamente d'accordo su queste cose e ritengo che quando c'è da dare addosso al cane in chiesa tutti sono pronti a dargli addosso. Il piccolo paga sempre, il grande paga sempre meno.